Una buona serata a seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'ACA e la sua gestione perché scende in campo anche la CGL. Tanti punti ancora da chiarire sul corretto funzionamento dell'azienda comprensoriale acquedottistica, punti che necessitano di essere discussi in un tavolo partecipato anche dai sindacati. Questo l'appello lanciato dalle istituzioni. Francesca Romana Testi. Il governo dell'acqua è una cosa seria, una sottolineatura che la CGL ritiene fondamentale nel caso scoppiato sulla gestione ACA. Una pertinenza di competenza dei comuni e non della regione. Questa l'ha stoccata rivolta al presidente Luciano D'Alfonso che aveva fatto sentire la sua voce sulla questione. Prima di parlare di nomi papabili e nuovi governi sarebbe il caso di fare chiarezza sui tanti interrogativi sul tavolo che la CGL snocciola davanti alla stampa per chiedere un tavolo di concertazione davanti alle istituzioni. Chiediamo ai sindaci se siamo d'accordo su quali sono le priorità dell'ACA, di un'azienda che distribuisce, che rende un servizio di distribuzione e di depurazione delle acque. Quali sono le priorità? Quali sono le emergenze da affrontare? Anteporre le questioni di chi deve dirigere l'ACA senza un ragionamento sul merito delle questioni e diventa, non lo comprendiamo, anche perché, se messa in questi termini, pare che ci sia una questione che chi deve decidere ha chi deve rispondere. L'ACA è della collettività, i sindaci decidono non in quanto sindaci, ma in quanto capi della loro collettività. E poi si parla anche di parlare della questione della gestione dell'acqua in Abruzzo, non solo del caso dell'ACA, perciò il confronto riguarda anche il Presidente della Regione? Noi dobbiamo capire se c'è un'idea di sviluppo sostenibile che riguarda anche la gestione dell'acqua che renda possibile il governo delle spa pubbliche che ci sono, secondo criteri di pubblico, secondo criteri di risposta alla collettività, per esempio che hanno la possibilità di ridurre i loro costi, hanno la possibilità di diversificare le loro tariffe per dare la possibilità a chi ha meno di pagare di meno e che questo governo dell'acqua risponda appunto a criteri democratici, ma di un'azienda moderna, efficace ed efficiente. Si svolta nelle prime ore della mattinata a largo del litorale, compresa tra Pescara e Roseto degli Abruzzi, l'esercitazione guidata dalla Guardia Costera proprio di Pescara, che ha visto la simulazione di un intervento causato da un velivolo in avaria a partecipare alle operazioni di salvataggio, anche la protezione civile e la Croce Rossa. Una simulazione che avviene all'interno della centrale operativa della Capitaneria di Porto di Pescara, in realtà poi si inserisce in un quadro europeo, ci sono degli osservatori, al lavoro ci sono molti uomini, l'obiettivo e la finalità qual è? L'obiettivo e la finalità è quella di stabilire delle procedure e provarle e testarle sul campo attraverso appunto questa esercitazione, per favorire appunto l'integrazione tra le diverse modalità operative, tra le nostre organizzazioni di soccorso, la nostra quindi quella delle Capitanerie di Porto e Guardia Costera e le organizzazioni deputate alla stessa attività, francese e spagnole. In più abbiamo la presenza di alcuni osservatori, in particolare degli amici colleghi croati, sloveni, albanesi e spagnoli. La simulazione di oggi ecco appunto che cosa ha messo in campo, si parla di un aereo o si parla di un intervento in mare? Notizia di un evento, area incerta di ricerca, la prima cosa da fare in questi casi visto che la rapidità di intervento è fondamentale, invio di un aereo sul posto per individuare dove far dirigere i mezzi navali a disposizione, l'aereo ha rilevato alcuni punti, li ha passati alla sala operativa nostra e noi stiamo gestendo l'intervento sia delle motovedette sia di altri mezzi aerei che hanno l'incorico di verificare esattamente quello che l'aereo ha visto e nel caso degli elicotteri anche verricellare eventualmente feriti, naufraghi, persone che devono essere ancora via e purtroppo se del caso anche i cadaveri. L'esercitazione non riguarda solo la nostra organizzazione ma anche l'organizzazione della protezione civile e del 118 che ha già allestito un punto di primo ricovero e primo intervento in porto. L'organizzazione di Pescara è un'organizzazione che si inserisce in un contesto più ampio che vale su tutto il territorio marittimo nazionale e per le aree di ricerca e soccorso assegnate all'Italia. Quindi l'organizzazione è permanentemente deputata al soccorso in mare sia a unità natante, diciamo, in barcazione, in unità navale sia in unità aerea, appunto come nel caso che stiamo provando oggi. Cronaca adesso, torniamo sull'omicidio di Paolo Cialini perché Dante Di Silvestre, il sessantenne caldaista accusato di aver ucciso proprio l'informatico a Giulianova rimane in carcere. Il Tribunale del Riesame dell'Aquila infatti ha rigettato oggi pomeriggio la richiesta della difesa del sessantenne caldaista di lasciare il carcere di Castronio per mettere un braccialetto elettronico. L'udienza si era svolta due giorni fa, la richiesta dei legali Gennaro Lettieri e Nadia Baldini faceva riferimento all'arresto bis del sessantenne contro il quale per l'appunto la difesa aveva chiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il caldaista dunque rimane a Castronio di Silvestre uccise Cialini, secondo la procura, al termine di un diverbio verbale. Un pezionato di sessantotto anni è stato trovato morto oggi pomeriggio nella sua abitazione di via Palermo a Pescara. Stando ad una prima ricostruzione il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa e sarebbe dovuto, almeno secondo una prima ricostruzione, a cause naturali. Il sessantottenne viveva da solo e una vicina di casa, non vedendolo da qualche giorno, ha allertato la polizia. Oltre agli uomini della squadra volante sono intervenuti i vigili del fuoco per l'apertura della porta. I sanitari del 118 e il medico legale. L'uomo era su una poltrona. La salma sarà riconsegnata ai familiari. Riconsegnata invece questa mattina, dopo i lavori di ristrutturazione e miglioramento antisismico, la scuola media Dante Alighieri di Spoltore, primo istituto scolastico italiano, ad aver ricevuto il maggiore importo del progetto Governo Scuole Sicure. Ristrutturazione e miglioramento sismico sono i lavori eseguiti con 3,5 dei 44 milioni destinati all'Abruzzo nell'ambito del progetto Hashtag Scuole Sicure di Renzi. La scuola media Dante Alighieri di Spoltore non solo è rientrata a far parte del primo elenco dei 1639 istituti redatto dal Governo per la messa in sicurezza, ma è anche la più finanziata, cioè l'istituto che ha ricevuto il maggior importo. Abbiamo garantito una scuola più sicura rispetto a prima e abbiamo ammodernato, ammodernato con degli standard che credo in Regione Abruzzo non ce ne siano. Oltre che una scuola più sicura, questo edificio sarà un edificio scolastico in classe energetica A e forse anche di più mi dicono adesso che stanno facendo le certificazioni, quindi risparmieremo veramente tanti soldi e c'è anche l'aspetto sostenibile della scuola. Si può migliorare un edificio scolastico datato? Sicuramente sì, questo si può fare ovviamente con degli interventi particolari, tipo quello che è stato fatto in questa scuola, dove noi qua abbiamo completamente ricostruito tutti i pilastri ex nuovo, rifatte tutte le armature, sia verticale che tutti gli staffaggi orizzontali delle strutture, tutte le trave sono state rinforzate con delle fibre di carbonio, così come tutte le staffe dove mancavano, perché era un edificio ovviamente datato questo, è un edificio che risale agli anni 60, quindi ovviamente con tutte le problematiche delle strutture che sono state costruite negli anni 60. Lei prima mi parlava di differenza tra miglioramento sismico e adeguamento, qual è? Il miglioramento vuol dire che io porto ovviamente l'edificio a un grado di sismicità inferiore, l'adeguamento vuol dire che io devo portare l'edificio che deve rispondere ai requisiti che se succede un terremoto l'edificio comunque deve resistere, può avere ovviamente dei danni, può subire dei danni, ma non devono essere danni che portano al crollo o comunque alla perdita delle vite umane, non può portare a una cosa del genere ovviamente, se noi l'edificio lo consideriamo adeguato sismicamente. Il tema centrale dunque è la sicurezza nelle scuole e proprio a proposito di questo argomento è stata posticipata il 19 settembre la riepertura delle scuole a Mosciano Sant'Angelo a firmare l'ordinanza il sindaco Giuliano Galiffi per il quale la decisione è stata assunta esclusivamente al fine di non creare allarme sociale e di concerto con il dirigente scolastico. Sempre il comune spiega che su richiesta del sindaco è stata comunicata da parte della protezione civile regionale la disponibilità ad inviare tecnici per effettuare ulteriori sopralluoghi agli edifici scolastici al fine di garantire controlli da soggetti terzi rispetto all'ente. Sempre il comune annuncia che nel corso della prossima settimana prima della riapertura del 19 si terrà un incontro pubblico indetto dall'amministrazione per illustrare le risultanze dei controlli. Riprenderanno invece regolarmente le lezioni a Pineto dove l'unica eccezione sarà rappresentata dai bimbi della scuola dell'infanzia di Borgo Santa Maria sul cui plesso saranno necessarie ulteriori verifiche. I bimbi in questo caso torneranno sui banchi il 19 settembre e saranno inizialmente ospitati nella vicina scuola elementare. Il giorno di riapertura delle scuole a Teramo invece resta incerto. Intanto il sindaco Maurizio Brucchi ha formato un pool di lavoro con quattro ordini professionali per le verifiche sismiche. L'obiettivo è quello di convenzionarci con gli ordini per costituire dei pool formati da un ingegnere, un architetto, un geometra, un geologo che andranno a fare le 19 verifiche più abbiamo aggiunto la Molinari che riteniamo possa essere in questo momento una struttura da tenere a disposizione perché continuano le verifiche sismiche, le verifiche da parte della protezione civile sulle strutture superiori tipo stamattina all'artistico e quindi in qualche modo io non me lo auguro però comunque ritengo che sia anche questo importante. Direi che è anche un passaggio importante di collaborazione e in questo caso taenti. direi anche innovativo. Io davvero ringrazio gli ordini che hanno espresso anche la volontà di voler andare un po' oltre quella che è la verifica sismica fino a se stesso ma di voler iniziare un percorso nuovo su quella che è un nuovo approccio sulla sicurezza in questo caso degli edifici pubblici ma non solo anche degli edifici privati perché vorrei ricordare a me stesso ma anche a tutti i cittadini che l'obbligo della legge di marzo 2013 sia per gli edifici pubblici ma anche per quelli privati. Nel frattempo le scuole potranno riaprire il 12, si può ipotizzare una data già? Guardi, le nostre scuole materne, elementari e medie sono pronte il 12. Ora è chiaro che c'è un po' una tensione, una preoccupazione giustificata per cui rifletteremo insieme ai direttori didattici se magari, come dire, prolungare l'aprire insieme alle superiori il 19, però questa è una scelta che voglio fare insieme ai direttori didattici, fermo restante e ribadendo che però le nostre scuole di oggi sono pronte quindi sarebbe soltanto comunque, come dire, una forma di contributo psicologico a chi vive questa situazione, come giusto e normale che sia, con particolare ansia. Il centralino dell'ospedale di Pescara da questa mattina ha visto al lavoro un solo operatore su cinque, quattro dipendenti infatti hanno regolarmente timbrato il cartellino e poi sono usciti dalla loro stanza di lavoro. A causare il disagio è stata la presenza di un cane guida che dal primo settembre accompagna al lavoro una loro collega non vedente. Noi siamo andati ad ascoltare le parti in causa. Telefoni appoggiati sulla scrivania, sedie vuote e quattro operatori del centralino del polo ospedaliero di Pescara che attendono in piedi fuori dalla stanza di loro competenza. Un caso che trova le sue radici nell'arrivo di una collega non vedente accompagnata al lavoro dal suo cane guida, Mindy, una femmina di labrador che dal primo settembre veglia fedelmente la sua padrona nel corso delle ore di lavoro. I problemi si erano avvertiti già il secondo giorno, il 2 settembre quando i quattro colleghi avevano fatto presente alla direzione il disagio vissuto nel condividere la stanza con un cane di grossa taglia. Nel comunicato prodotto dalla Will si legge di un malore causato dal cattivo odore del cane che avrebbe procurato la necessità dell'intervento del 118 per una reazione vasovagale. Secondo la Will il rischio sarebbe la salute di ogni lavoratore per il rischio igienico. Qualcuno lamenta anche paura dovuta alla grossa taglia del cane. La Will chiede provvedimenti immediati tra i quali la disposizione di tenere Mindy legata lungo il corridoio al di fuori della sala centralino per tutta la durata del turno di lavoro. Intanto Silvia, questo è il nome della centralinista non vedente, Questa mattina si è trovata sola a gestire il traffico di chiamate in entrata con molte difficoltà e questo è il suo racconto. Il problema è che all'inizio il mio dirigente mi aveva chiesto esplicitamente ovviamente verbalmente diciamo di non creargli problemi, queste sono state le sue parole perché la situazione qui dentro era che non volevano il cane perché insomma per tanti motivi e quindi mi hanno detto cerca di non crearmi problemi. Entrambe le parti in causa si sono rivolte al manager dell'asla di Pescara chiedendo di ottenere una soluzione che rispetti le esigenze di ognuno e soprattutto che garantisca il funzionamento di un servizio pubblico che oggi ha visto rimanere vuote 4 postazioni su 5. Sinceramente sono rimasta da sola, ho avuto un po' di difficoltà perché praticamente io non ho neanche la postazione adeguata infatti lei non vede un computer, no? No. Ok perfetto, quindi in ospedale ci sono reperibilità cellulari di medici che i reparti mi chiedono e io quindi sono stata costretta a chiamare il direttore sanitario e dirgli che ho questa situazione quindi eventualmente mi avevano chiesto dei cellulari, dei reperibili che io non potevo cercare e poi il direttore sanitario gentilmente mi ha risolto il problema momentaneamente e niente, questa è la situazione L'assessore comunale alla ricostruzione Pietro Di Stefano denuncia un notevole ritardo nella presentazione dei progetti ovviamente siamo all'Aquila progetti spesso incompleti a proposito di commissariare le pratiche lente siamo al paradosso, dice con i soldi in cassa cittadini e progettisti non presentano progetti Di Stefano annuncia la linea dura Daniela Rosone Solo 15 milioni di euro di progetti finanziati se il diciassettesimo elenco dovesse uscire ora questa sarebbe l'attuale situazione non 100 milioni di euro come si era prefisso l'assessore alla ricostruzione del comune dell'Aquila Pietro Di Stefano lontanissimi dagli 800 milioni che si erano addirittura richiesti non siamo in condizioni di far uscire un elenco corposo perché è sempre il solito mancano i progetti ad andare a finanziamento paradossalmente i soldi ci sono però non si riesce a far completare l'idere dei progetti perché sono incompleti, perché non integrano perché a volte dimenticano di mettere delle cose insomma siamo al paradosso io credo che la si debba smettere di giocare a Penelope e Ulisse nel senso che per Ulisse chi fa la tela e chi la disfa durante la notte non è possibile questa è una città che va ricostruita abbiamo fatto battaglie per avere i fondi adesso io non accetto assolutamente non accetto questo tipo di ritardi questo tipo di superficialità sono decisa ad andare fino in fondo così si pensa addirittura ad una delibera di giunta che rende impossibile presentare progetti incompleti i tecnici spesso li depositano comunque allungando di molto i tempi una situazione di stallo questa che di Stefano per la verità va denunciando da mesi tant'è che ha chiesto anche ai suoi uffici una ricognizione più precisa la responsabilità è di coloro che presentano i progetti è il titolare del contributo noi abbiamo scelto una strada che è quella dell'indennizzo il titolare è il cittadino è il cittadino che si deve rendere responsabile attraverso tutti gli attori di quel progetto il rischio di perdere fondi infatti in un momento in cui sul territorio c'è un'altra emergenza in corso il terremoto di Amatrice è più che concreto non quelli ovviamente che il comune ha già in cassetto ma potrebbe darsi che il Cipe decida di assegnare all'Aquila sempre meno fondi un'altra soluzione spiega di Stefano potrebbe essere quella di commissariare non solo i cantieri e le pratiche ferme ma anche quelle che procedono con eccessiva lentezza ci sono strumenti di commissariamento per gli aggregati e i consorsi non costituiti ed è quello che abbiamo fatto e stiamo facendo con l'albo dei commissari chiedo all'usra di un provvedimento che mi dia la possibilità di commissariare anche quelli che vanno lenti quelli che non camminano ancora di più se abbiamo dato il contributo quel contributo sta in banca e non viene speso Nei mesi di settembre e ottobre sono previsti numerosi appuntamenti organizzati dal coordinamento regionale di democrazia costituzionale per dire no al referendum Il coordinamento regionale di democrazia costituzionale e la rete dei comitati per il no della regione Abruzzo promuovono insieme ad altre organizzazioni una serie di dibattiti discussioni e confronti con i cittadini abruzzesi portando le ragioni del no alla revisione costituzionale Saranno presenti nella nostra regione varie personalità a partire dal presidente del Comitato Nazionale Alessandro Pace che sarà due volte qui il 23 e il 19 il 19 a Chieti e il 23 sarà qui a Vasto quindi sempre in provincia di Chieti per il resto le iniziative si articolano in tutta la regione abbiamo iniziative in provincia di Teramo le prossime che ci saranno appunto si terranno il 15 a Teramo con l'avvocato Felice Besostri che è l'avvocato che impugnò dinanzi alla Corte Costituzionale il Porcellum e ha impugnato anche in 19 tribunali l'attuale legge elettorale denominata Italicum il 4 ottobre infatti ci sarà un primo pronunciamento della Corte Costituzionale e poi il 17 avremo a Roseto degli Abruzzi il presidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena che incentrerà il suo intervento maggiormente sui profili che riguardano il rapporto fra questa deforma costituzionale proposta dal governo Renzi e le forze trasnazionali di carattere finanziario che la impongono perché esiste un rapporto molto stretto fra esigenze della finanza internazionale ed europea portate avanti da organismi tecnocratici come la Troica e le scelte politiche che gli stati nazionali europei dovrebbero compiere sulla base di queste esigenze lontane mille anni luce da quelle reali delle cittadinanze delle popolazioni Partono all'Aquila dei laboratori artistici rivolti a ragazzi dai 16 ai 19 anni compresi gli utenti dei centri diurni per disabili e i loro familiari Filippo Tronca Un luogo dove incontrarsi un palcoscenico dove esprimersi e mettersi in gioco questo propone il progetto Piazze d'Arti Diamoci da fare che prende il via all'Aquila fino al giugno 2017 a cura dell'associazione teatrabile finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociale Laboratori teatrali artistici saranno rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni e in particolare agli utenti dei centri diurni psichiatrici e ai loro familiari questo progetto questo progetto mette insieme arte e cultura quindi promozione artistica e promozione culturale per anche l'animazione del territorio a chi è destinato a dei ragazzi ma contemporaneamente anche ai loro accompagnatori e ai loro genitori ai ragazzi quindi a tutti i ragazzi anche quelli del mondo della disabilità dello svantaggio sociale cosa si propone delle attività culturali pratiche quindi laboratori pratici teatrali che immediatamente portano anche a delle uscite pubbliche per l'animazione del territorio quindi nei luoghi della città lo scopo è quello di conciliare gli spazi di vita con gli spazi di lavoro perché esistono molte iniziative per i ragazzi ma non esistono invece per i genitori che non hanno dei momenti di inconfronto e di crescita vera quindi noi vogliamo accumulare queste attività parallele per dare la possibilità di implementare le competenze genitoriali e anche creare una rete dei genitori che li possa appunto sostenere e accompagnare nel loro percorso Idea vincente quella degli organizzatori della prima edizione del Wine Foruli che hanno cambiato il volto del loro borgo trasformandolo in un percorso di cantine e punti di degustazione tutto questo ha civitato massa a frazione del popoloso comune di Scoppito nell'Aquilano un grandissimo successo nei giorni scorsi a Civitato Massa frazione del popoloso comune di Scoppito a due passi dall'Aquila per la prima edizione del Wine Foruli nell'antico borgo di Foruli all'imbrunire cantine aperte negli angoli più suggestivi del paese con degustazioni di vini artisti di strada e stand una festa del buon vino che ha portato a Civitato Massa moltissime persone un percorso del gusto nei vicoli dell'antico borgo un modo per rivitalizzare il paese con iniziative importanti che restituiscono al visitatore la bellezza di borghi ancora poco conosciuti seppur molto importanti nella storia cittadina Civitato Massa infatti nasce sui resti dell'antica Foruli vicus romano dipendente all'epoca da Miternum un borgo che molti non sanno concorse con altri castelli alla fondazione dell'Aquila nel 1254 l'importanza delle tradizioni e della conoscenza che grazie agli organizzatori del Wine Foruli ha permesso a molte persone anche turisti di conoscere e apprezzare alcune frazioni del territorio aquilano diverse le cantine che hanno partecipato all'evento che ha portato le degustazioni in paese in una passeggiata all'insegna del buon vino e dei prodotti tipici locali e adesso apriamo la pagina sportiva iniziamo dal Pescara di Massimo Odo a tre giorni dal match dello stadio Adriatico domenica sera alle ore 20 e 45 contro l'Inter problemi di abbondanza per il tecnico pescaresi sono infatti a disposizione tutti gli effettivi compreso Norbert Ghiomber dopo i match di qualificazione al prossimo mondiale di Russia 2018 sarà Antonio D'Amato di Barletta arbitro internazionale peraltro a dirigere il posticipo di domenica sera allo stadio Adriatico assistenti Posado di Bari e lo Cicero di Brescia con Antonio D'Amato cinque precedenti per il Pescara due in Coppa Italia due precedenti fortunati in Coppa perché ci sono state le vittorie contro Frosinone e Chievo in campionato una volta in Serie A con una vittoria anch'esa sul campo del Cagliari due sconfitte ma dobbiamo risalire molto indietro nel tempo eravamo nel 2006 contro Arezzo e appunto Frosinone oggi pomeriggio ha parlato il difensore Alessandro Crescenzi lo ascoltiamo giochiamo contro l'Inter che anche se sta diciamo attraversando un periodo non brillantissimo ha sempre l'Inter ha delle individualità importantissime penso questo lo sappiamo tutti dovremo stare molto attenti agli uno contro uno una squadra individualmente è fortissima secondo me tra le prime della Serie A però noi insieme al Minister e la squadra stiamo lavorando bene e niente speriamo che a livello di prestazioni possiamo continuare questa striscia positiva perché secondo me stiamo giocando benissimo Alberto è un giocatore un giocatore devastante io lo conosco perché quando ero in primavera quando ero facevo il settore giovanile della Roma lui era in prima squadra e già era fortissimo sicuramente adesso ha acquisito anche tale esperienza quindi è un giocatore che può fare la differenza per me è importantissimo che essendo romanista quindi è un derby sicuramente è una squadra che è molto forte con un allenatore preparatissimo poi so che è anche importante per il Pescara perché c'è un po' di ruggine diciamo però sicuramente cercheremo di portare a casa qualche punto anche con la Lazio perché noi dobbiamo il nostro obiettivo è la salvezza e prima ci arriviamo è meglio ce ne sono ce ne sono tantissimi Felipe Anderson non li sto di tutti perché sennò finiamo domani però no nel complesso loro sono una grandissima squadra però ce la ce la batteremo in Lega Pro invece sabato pomeriggio alle 18.30 trasferta per il Teramo sul campo del Pordenone partita delicata per i Biancorossi che hanno solo un punto in classifica andiamo ad ascoltare il portiere del Teramo Francesco Rossi penso ci siano stati un po' di episodi penso sia stata una buona parata però come ci sono state tante altre occasioni dei miei compagni in cui sono stati bravissimi per cui penso che siamo partiti un po' così abbiamo preso subito il gol però siamo stati bravi a reagire e penso l'inerzia sia cambiata più che altro sul gol ma anche sul gol nostro e poi comunque già due o tre minuti prima abbiamo capito tutti di aver fatto una brutta prestazione volevamo reagire siamo partiti male però avevamo proprio voglia di dimostrare cosa possiamo chi possiamo fare e chi possiamo essere tutto il campionato si è composto da squadre con ottimi attaccanti però questo non ci spaventa perché davanti a me ho anche degli ottimi difensori per cui sono tranquillo motivato e sappiamo che dobbiamo dare continuità di prestazione è la prima volta forse che gioco con così tanta gente sono contento sono contento perché ci hanno incitato dal primo all'ultimo minuto sia questa partita sia comunque a Lumezzane anche negli ultimi minuti penso ci abbiano dato la carica a tutti perché comunque si vedeva che potevamo segnare da un momento all'altro e ci hanno di sicuro dato una mano io sono contento appunto di avere i tifosi alle spalle e di essere seguito da tutta questa gente e questo era anche il nostro ultimo servizio e vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento con la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo il TG6 invece torna questa sera nell'edizione della notte alle ore 23 per il momento grazie per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento di serata grazie per la visione